Gentili telespettatori, buona giornata. Boom di Fratelli d'Italia nella regione Lazio. In vista delle elezioni che ci saranno tra poche settimane, Fratelli d'Italia è oltre il 32%, vale tre volte Forza Italia e la Lega. Vediamo che il primo partito è Fratelli d'Italia con il 32,4% dei consensi, il 18,1% è al PD, il Movimento 5 Stelle al 16,5%, Azione Italia Viva al 6,7% mentre la Lega è al 5,7% e la Lega al 4,1%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra pochi minuti.